ben a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale del nostro nuovo video come al solito io sono Gabri e io Biril oggi andremo a far vedere il nostro nuovo liquido che ci metterà le ali, si chiama Arctic Bull della Enjoy Swapo un liquidozzo molto simile ai drink energetici del Penny ora andiamo a fare una prova di questo liquidozzo campione gratuito ricordiamolo c'è stato donato da Swapo Caffè, Marina di Carrara, Moliciara e la Spezia andatela a trovare negoziato pieno di oggetti liquidi, atomizzatori, box, tubi, aromi, troverete davvero tutto ora andiamo a fare la prova di questo liquidozzo, io sulla Arctic Air Profile, io sempre sulla Wismac con il Goon 22 l'ho ritirato fuori tutto impolverato, l'ho messo a nuovo, spinge come drago, svinge come il drago sulla Wismac S S R S R S R S R S 200 fumo ne fa un bote, quello ci rimane è quello è la energy del Penny, è un sparato identico, la 0 nicottina è anche un po' fresco, una bevanda energetica fresca, quando la metti in frigo, bella dolce, la metti in frigo, due lorette, la tiri fuori, e la bevi al volo, ciao a me piace questo liquido, io sono amante dei re, dei monster, quella roba lì che voto gli dai? io no, non è anch'io, a me mi piace, se lo prende tutto perché è fatto bere è fatto veramente bene a chi piace la Red Bull, il monster, quella roba lì, un tiro, un tiro a riflettere, perché ti lascia, è un tipo quel dolce, è vero dalla Enjoy Swap, noi lo consigliamo, lo consigliamo, chi lo vuole, non so se ora ci sarà formato 50 ml, questo ancora quello vecchio 20 ml, che ci va aggiunta alla bazetta, per portarla a 60 ml allora, dalla tenda ad uno swap è tutto se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e ricordatevi che abbiamo la pagina su Facebook e su Instagram, veniteci a seguire ciao